La sua sfida più ambiziosa è quella di trasformare il carcere duro e farlo diventare carcere intelligente e preventivo. È conciliabile secondo lei prevenzione e riducazione quando si parla di 41 bis? Indubbiamente prevenzione e riducazione sono le due facce di una stessa medaglia, è chiaro che il 41 bis riguarda i capi delle organizzazioni mafiose e in quanto tale è una misura estrema, non è una misura di tipo ordinario. Per entrare nella strada dell'educazione bisogna uscire dalla strada del controllo delle organizzazioni mafiose, quindi c'è questo passaggio da fare e la strada del controllo delle norme deve essere regolato da una scelta che è la scelta di interrompere i collegamenti volenti organizzati. Senza questa scelta è invenzabile che un soggetto che vive dentro una realtà criminale mafiosa possa essere cambiato a una rieducazione effettiva e non soltanto formale. Si può sintetizzare la trattativa tra Stato e mafia come un conflitto tra poteri dello Stato? Il conflitto tra poteri dello Stato non può esistere nella misura in cui lo Stato non solo ha interesse che alla ricerca della verità dei fatti. Se ci sono pezzi, persone, individui, singoli che hanno svolto, noi, nell'ambito dello Stato che viene svolto in modo fedele, queste persone devono rispondere di quello che hanno fatto e non devono far porsi rispetto alla ricerca della verità. Io ritengo che lo Stato tutto intero abbia interesse in questo fatto e questo è dicendo con tutte le altre, a fare chiarenza e a cercare soltanto la verità. Abbiamo appena detto che lei è procuratore aggiunto a Messina. Cosa Nostra in questo momento tace? È perché si sta organizzando o si aspetta qualcosa in futuro? Cosa Nostra è un'organizzazione che ha delle grandi risorse economiche e militari, anche in modo attuale nel quale viene considerata perdente o in una fase di riflusso. Quindi è chiaro che a tratto dell'inizio al passato e come tutte le organizzazioni che hanno delle strategie sa che in questo momento è più conveniente per essa svolgere un ruolo sotterraneo, amministrare i mezzi, i finanzi e i gode, svolgere un ruolo che le consenta di essere inavvissate, non visibili rispetto a quelle che sono le attività di controllo che lo Stato opera nei suoi controlli. Lei presenterà il libro in occasione della prima edizione del Fastivale dei Beni Confiscati a Milano. Prima volta che in Lombardia un ente pubblico organizza una rassegna di più giorni sulle organizzazioni di stampo mafioso. E segnale che qualcosa sta cambiando anche qui al nord? Credo che ci sia un movimento che in tutta Italia porta a un rinnovato impegno contro le forme di attività illegale, dalle più blanche fino a quelle organizzate di tipo mafioso. Qui al nord esiste una scoperta del fenomeno mafioso che fino a qualche tempo fa era persistente, erradicato ma non veniva riconosciuto. Quindi anche le popolazioni del nord hanno capito che la mafia è un fenomeno grave con la quale non si può convivere e hanno adeguato le loro risposte anche da un punto di vista degli interventi pubblici, sociali, politici, culturali. Grazie.